e siamo così giunti alla finale B dei 100 metri d'orso uomini B final 100 meters backstroke male lane 8 corsia 8 Ties van Hofwegen Netherlands Paesi Bassi lane 1 corsia 1 Antoni Ponch Bertrand Spain Spagna lane 7 corsia 7 Anterrada Croacia Croazia lane 6 corsia 6 Dawid Tomcziki Poland Polonia lane 3 corsia 3 Ties van den Händen Netherlands Paesi Bassi lane 5 corsia 5 Raman Saleh Azerbaijan lane 4 corsia 4 Aymeric Parmentier Belgium Belgio è assente no present in lane number 2 corsia 2 Federico Bicelli Polisportiva Bresciana no frontiere Mischini Polisportiva Bresciana no frontiere ma rifatto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Virata di metà gara in testa all'atleta in corsia 5. Raman Saleh, azerbaijan, che ha toccato 29.83, 29.83. Ed è lui che va a chiudere con un ufficioso di 1.0209. 1.0209 for the swimmer in lane number 5, Raman Saleh, azerbaijan. Grazie. 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 Grazie.